Musica Cari telespettatori benvenuti al primo appuntamento dell'anno con Primo Cittadino questa sera daremo il via alle nuove puntate con il sindaco di casa, il sindaco della città di Fano do il benvenuto a Massimo Seri, buonasera sindaco Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV Come sempre potete intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci dei brevi messaggi di testo utilizzando anche l'applicazione di Whatsapp al 338 49 68 250 numeri di telefono che troverete sempre in sovraimpressione Sindaco, iniziamo questa prima puntata, il nostro pensiero non può non andare alle stragi che stanno avvenendo sulle strade della nostra regione, purtroppo anche della nostra città e della provincia di Pesor Orbino Da ultimo un giovane papà di 24 anni che ha perso la vita lungo la Flaminia a Cucurano di Fano sono ancora da accertare con esattezza sia la dinamica che le cause eccolo qua, vediamo la foto di Patrick Mencoboni la certezza però è che un'altra giovane vita se n'è andata, una vita spezzata questi sono momenti tragici perché quando accadono queste cose colpiscono una comunità, colpiscono tutti parlo anche da genitore, quando una giovane vita viene strappata in un incidente come questo non ci si dà una spiegazione e le parole servono a poco la vicinanza alla famiglia che voglio esprimere anche attraverso queste telecamere che in queste ore staranno vivendo dei momenti difficilissimi è comprensibile perché per un genitore penso non ci sia prova più difficile come quella di perdere un figlio è chiaro come la tragedia che ha coinvolto le due ragazze, le due signore sulla strada di Senigallia e qui c'è un tema serio che non va sottovalutato della pericolosità di alcune strade e bisogna impegnarsi per renderle il più possibile sicure poi ovviamente dipende anche da noi come affrontiamo perché anche la tragedia che ha coinvolto le due donne e lì c'è stato un comportamento irresponsabile del guidatore che era, come tutti ormai sanno, ci era messo la guida quando non poteva farlo è chiaro ci sono delle strade, adesso nella tragedia dell'altro giorno lì è da capire quelle che siano state le dinamiche però è sotto gli occhi di tutti che alcune strade hanno un tasso di pericolosità date anche dalla loro conformazione e dalle loro caratteristiche su questo bisogna impegnarsi e noi dei ragionamenti è da tempo che li stiamo facendo sapendo che alcune cose non dipendono esclusivamente dalle amministrazioni ma dipendono anche ad altre bisogna trovare gli strumenti per far rallentare l'andatura, la velocità specialmente se penso alla Flaminia, la statale adriatica pensando anche il telelaser che è un deterrente ma anche uno strumento per intervenire poi c'è anche un tema della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e su questo vanno fatti investimenti che riguardano i marciapiedi specialmente nei tratti più pericolosi noi in questi termini e ragionamenti li stiamo facendo sono interventi importanti, non sono semplici ma gradualmente in un piano vorremmo attuarli come stiamo facendo dei lavori importanti anche per le piste ciclabili per mettere in sicurezza, come dicevo, ciclisti e pedoni speriamo anche con le nuove strade, le nuove bretelle che vadano a diluire anche parte del peso del traffico su alcune arterie adesso vedremo gli effetti anche con l'ultimazione delle altre opere compensative la bretella sud, per esempio quella aperta adesso tra via Roma e Belgiato sta funzionando e porterà, già sta portando ad alleggerire alcune altre strade che si erano appesantite Parliamo proprio di sicurezza sulle strade ci arriva la prima segnalazione volevo segnalare un pericolo nell'incrocio tra via Modigliani e via della Paliotto in quanto è presente uno stop nella parte Montemare riguarda solo pedoni e velocipedi non si ferma mai nessuno per farli attraversare causando pericolo per entrambi inoltre prosegue il nostro telespettatore dall'altra parte su via Modigliani direzione Mare-Monte per chi percorre la salita del supermercato ha la precedenza sia dal lato destro che dal sinistro della strada e sostanzialmente non lo applica nessuno quindi insomma se è possibile modificare in questo caso la viabilità o prestare attenzione per risolvere il problema diciamo prima che sono state inaugurate vediamo qui le immagini questo tratto delle opere compensative della terza corsia della 14 nel mese di dicembre poco prima del mese di Natale il 23 dicembre un chilometro e 300 metri su commissione della società Autostrade come ha detto Pocanzi c'è la possibilità in questo modo di ridurre il traffico sia a Cintinarola ma anche nella zona delle Fontanelle a questo punto manca un collegamento efficace verso Pesaro e verso la zona sud oggi abbiamo visto che c'è stata anche una conferenza stampa del Movimento 5 Stelle dove hanno dato un po' la loro ricetta per risolvere questo nuso problema della viabilità che cosa farà l'amministrazione serie? Beh intanto adesso devono essere ultimati i lavori delle bretelle verso sud che porteranno dalla zona dell'aeroporto fino a Tombaccia anche quello sarà un'opera importante che comoda e alleggerà il traffico inoltre abbiamo avuto dalla regione 20 milioni di euro stanziati e su questi abbiamo già iniziato il nostro lavoro per utilizzarli per migliorare ulteriormente la viabilità sia verso nord sapendo che comunque con 20 milioni si fanno delle cose importanti ma non risolutive adesso non ho letto il documento del Movimento 5 Stelle che io guardo con attenzione perché quando arrivano suggerimenti e proposte utili e importanti nell'interesse della città a prescindere da chi le presenta devono essere valutati se sono valide e adottati io su questo non ho mai avuto i paraocchi mi dispiace quando altri ce li hanno per cui è un ragionamento che facciamo però stiamo già iniziando a lavorare perché oltretutto queste risorse importanti che vorrei ricordare che è la prima volta nella storia della regione Marche che un comune ha un finanziamento così importante quindi non va asciupato abbiamo anche delle tempistiche perché queste sono risorse europee che passano attraverso le regioni e devono essere rendicontate hanno una tempistica per essere utilizzate Ci stanno scrivendo Sindaco per quanto riguarda delle buche sia a Falcineto poi a Sant'Orso nel parcheggio delle poste e anche nella zona di Vago Colle dicono che è diventata impraticabile da percorrere quelle auto c'è anche un asilo dove la sicurezza manca Allora adesso per quello che riguarda il Vago Colle adesso segnalo all'ufficio sapendo che stiamo attraversando un momento difficile per una carenza temporale di personale Per quello che riguarda Sant'Orso quella è la strada richiamata quella è una strada che verrà asfaltata e lì dobbiamo attendere che vengono ultimati i lavori per i sottoservizi e come sempre accade facciamo passare un certo periodo di tempo per far stabilizzare il terreno e poi si interviene con la risistemazione e in questo caso la riasfaltatura completa della strada Ci chiedono anche se verrà fatta la rotatoria a Rosciano Sì, l'ho già detto in più occasioni abbiamo già affidato l'incarico per la progettazione siamo a buon punto non solo abbiamo affidato l'incarico per la rotatoria del Codma ma anche per quelli che sono i miglioramenti per gli accessi pedonali e ciclabili nella nuova opera perché anche su questo devo ricordare noi non possiamo intervenire finché non abbiamo il passaggio delle opere completate da Società Autostrade che le sta attraverso la ditta Pavimental sta facendo la realizzazione ovviamente non è che si fa in due giorni io l'ho sempre detto ma stiamo andando avanti appena sarà fatto l'esecutivo si potrà procedere anche con l'apparto sarà una rotatoria importante volevo anche dire leggo perché il sindaco l'aveva promesso non l'ha ancora fatto lo stiamo facendo come di solito quando mi impegno a fare delle cose poi magari non sempre si riesce come si dice le ciambelle non riescono sempre con il buco però fino ad oggi tutto quello che abbiamo detto l'abbiamo fatto con le nostre difficoltà con i nostri tempi perché ovviamente problematiche ci sono però gli impegni assunti si mantengono vorrei anche sottolineare adesso c'è un po' di disagio si è costretti a fare qualche metro in più perché poi si parla di 200 metri in macchina andare alla rotatoria e tornare su però non c'è stato più un incidente io ricordo anche da Occhio alla Notizia venivano spesso ripresi e richiamata la pericolosità di quel incrocio da quando abbiamo fatto quel provvedimento abbiamo creato qualche disagio però la sicurezza viene prima di tutto non c'è stato più un incidente in attesa della rotatoria quindi è un sacrificio che penso si possa fare a favore della sicurezza e dell'incolumità delle persone l'unica pecca è che magari nella curva soprattutto per chi non è del posto si fa difficoltà a vedere lo stop i segnali parlano chiaro però c'è un po' di disattenzione è una questione di tempo perché effettivamente li rifaremo la nuova rotatoria importante grande che eviterà tutte queste problematiche allora segnalo l'elevata velocità con cui viene percorsa via Gentile da Fabriano che per un lungo tratto non ha un marciapiede e i pedoni anche studenti che vanno a scuola camminano a loro rischio e pericolo è necessario posizionare un rallentatore la nuova pista ciclo pedonale a Sant'Orso c'è stata un'altra inaugurazione un altro taglio del nastro non sono mancate le polemiche anche in questo caso ma quello è inevitabile non ricordo una cosa anche la più bella che non abbia anche sul Pincio che è sotto gli occhi di tutti è un'opera straordinaria bella che ha portato valore aggiunto vero alla città ha trovato chi ha fatto polemiche ma questo è nell'indole fa parte del nostro modo di agire perché la carreggiata è stata ristretta di 3 metri siamo passati da 9 a 6 metri avete dato la vostra spiegazione però sì io la faccio quasi tutti i giorni quella strada e non è vero che si creano disagi è vero è stata ristretta la carreggiata ristringere la carreggiata significa far rallentare il traffico lì passano tranquillamente tutti i mezzi si è messo in sicurezza con una pista rialzata rispetto a quelle che sono a raso sulla strada come ce ne sono in altre come ad esempio c'è in via Roma in questo caso è veramente in sicurezza si va in bicicletta e a piedi si va con i passeggini ci dicono giusto di cambiare l'illuminazione pubblica giusto che ci siamo sì noi anche sull'illuminazione pubblica stiamo procedendo vedete che in questi anni abbiamo fatto molto in sostituzione mettendo gli impianti led che fanno una miglior qualità della luce e consumano meno ovviamente non siamo in grado di fare tutti in un solo anno ne abbiamo fatti tanti abbiamo ovviamente dato una priorità abbiamo dato un percorso un programma proseguiremo anche con i duemila eventi abbiamo fatto anche delle estensioni però tornando alla pista ciclabile di questo tratto nuovo di Sant'Oso che si collega con un altro già realizzato in precedenza ma soprattutto c'è una nuova filosofia che sono quella di creare degli anelli che collegano i quartieri tra loro e il centro della città questo è il primo anello una cosa che in passato non c'era seguendo anche le buone prassi e quelle città che sono prese a modello per gli aspetti ciclopedonali noi vogliamo andare in quella direzione perché la qualità della vita di una città si misura anche con questi interventi poi è chiaro che alcune problematiche ci possono essere lì c'era una pensilina quindi era necessario passare dietro c'era un'area ecologica quindi bisogna capire anche quello che è il contesto non è che sono strade nuove che si realizzano e si può fare tutto progettando dall'inizio per cui si interviene sull'esistente con anche gli errori che ci sono stati nel passato comunque questa è una bella opera non è perfetta come qualcuno vorrebbe ci chiedono di mettere i 30 km orari adesso non so esattamente è zona 30 ovviamente anche quella verrà riasfaltata tutta quanta non subito ma è in programma insieme all'altra strada di Sant'Orso e quando si farà quello si metteranno anche tutte le segnalettiche della zona 30 buonasera volevo segnalare al sindaco che la nuova strada interquartieri di Rosciano non dispone di attraversamenti pedonali ciclabili rendendo difficile e pericolosa la viabilità sia a piedi sia in giro questo è quello che dicevo prima legato al discorso della rotatoria noi abbiamo già dato l'incarico per migliorare quell'aspetto qualcuno dice ma vi accorgete adesso che l'opera è fatta? no ci siamo accorti come tutte le cose hanno un'origine e molte progettualità partono da tanti anni indietro e noi quando siamo arrivati ci siamo trovati delle progettualità già approvate con le conferenze Stato-Regioni abbiamo portato delle modifiche che io ho definito dei miracoli perché era quasi impossibile portare delle modifiche ma l'abbiamo potuto fare rimanendo in quei parametri che erano le risorse già destinate non si potevano aggiungere risorse ulteriori e non dovevano nascere problemi con gli espropri in quelle caratteristiche noi abbiamo portato delle modifiche specialmente nella parte sud e a nord portando dei miglioramenti per le piste ciclabili purtroppo quando all'inizio e qui non ero ancora sindaco hanno iniziato a ragionare nessuno ha posto quel problema cosa che per esempio nell'opera del Consiglio di Pesaro l'amministrazione di Pesaro aveva valutato e inserito quindi dal mio insediamento noi abbiamo tutte le nuove strade che sono partite esclusivamente da noi nelle nostre progettazioni prevedono tutte piste ciclabili ci dicono anche della strada di collegamento tra Carrara e Cucurano dove c'è il maneggio è un collabrodo l'asfalto che non viene rifatto da più di 35 anni e anche via Sironi a Torrette ancora dovete stabilire il piano esatto della prossima primavera? sì, un nuovo intervento per il 2020 dobbiamo adesso appena ci rientrano le persone inizieremo subito a lavorare su questo la maggioranza delle strade non si asfaltavano da oltre 30 anni nella nostra città abbiamo iniziato l'ho ricordato in più occasioni abbiamo asfaltato oltre 110 km di strade che sono tantissime per un periodo come quello il nostro che è quello di 5 anni proseguiremo e arriveremo dappertutto ovviamente c'è una scala anche di priorità data dalla frequenza delle strade dalla pericolosità comunque quella è una di quelle strade che ha bisogno salve sono residente di via non ce l'ha messo nell'andata vecchia nei pressi della scuola elementare di Sant'Orso volevo segnalare che le auto sfrecciano a 100 km orari e fa paura anche a uscire dal cancello quindi nei pressi della scuola elementare di Sant'Orso perché effettivamente lì come diciamo prima in pochi rispettano l'interno di velocità è vero perché è un'altra di quelle strade che faccio spesso e anche su quello abbiamo presentato un progetto che ci è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente che si chiama FAMOSE e che ci dà delle risorse proprio per intervenire per la messa in sicurezza e ripensare anche la viabilità lì che sta sia nel rifacimento nella sistemazione del manto stradale ma anche con altri interventi che vanno in quella direzione ci richiedono ancora sindaco l'asfaltatura in località Tre Ponti esattamente la via del Canile e del Gattile questo è un po' di anni effettivamente che viene richiesta sono tutte quelle non asfaltate sono tutte lì da anni richieste col tempo arriviamo dappertutto non anche noi abbiamo delle programmazioni non possiamo destinare tutte le risorse annuali solo per gli asfalti quindi dobbiamo cercare di compensare però insomma si arriverà quella è un'altra strada oggettivamente messa che ha grosse criticità peggiorate in questo periodo perché con i lavori in corso su Viale Mattei molti fanno quella strada per evitare la non più incrocio essendoci dei limiti anche li vanno avanti i lavori si sa già stanno andando avanti io spero per marzo insomma che siano finiti per favore dito al sindaco di ripensare la viabilità di Via della Fornace e di invertire il senso di marcia insomma che è stato realizzato ormai un annetto un annetto fa sì è discusso molto so che l'assessore Fabio Otanelli è finito Sant'Orso si dedicherà proprio per quel tratto sia per la messa in sicurezza dei pedoni e delle biciclette e quindi ci saranno adesso non conosco bene il progetto la ciclovia adriatica Sindaco Marotta Senigallia sono partite ma fanno a breve lo stesso sì sì abbiamo appaltato anche noi è partita la gara d'appalto e noi abbiamo allungato un po' i tempi perché non ci siamo fermati alla sola realizzazione della pista cicliabile ma abbiamo aggiunto altre risorse per fare degli interventi anche nei sottoservizi per la raccolta delle acque visto che c'eravamo abbiamo ritenuto opportuno fare un lavoro completo intervenendo e migliorando anche quei disagi che si creano con le piogge credo non sia più possibile avere un lungomare di Sassonia così brutto Sindaco che cosa farete? entro febbraio partirà il bando del concorso di idee per il waterfront quindi la costa sono due concorsi sia per la parte nord quindi diciamo dal metauro verso nord sia per la parte sud torrette e ponte sasso abbiamo deciso di farne due perché vorremmo fare due interventi distinti e non scegliere soltanto una di queste due parti noi abbiamo iniziato un lavoro importante di qualificazione del centro storico che ci sta dando soddisfazioni e sappiamo che se vogliamo rendere la nostra città sempre più attraente interessante dobbiamo intervenire anche sul lungomare fra l'altro adesso sta partendo anche il centro di ricerca internazionale che porterà sempre maggiore attenzione anche i ricercatori un po' da tutta Europa che verranno lì anche in pianta stabile quindi c'è un'attenzione ed è per noi un valore importante non so se me lo chiederà ma sicuramente c'è attenzione anche su questo sulle scogliere per quello che riguarda Sassonia abbiamo fatto la gara per la prima stallo di scogliere adesso abbiamo approvato in giunta proprio all'inizio dell'anno dopo che la regione ci ha affidato le altre risorse necessarie per fare gli altri due scogliere anche quelle adesso vanno in appalto l'obiettivo sperando anche nella fortuna di ditte serie che sono collaborative perché poi noi una volta fatto l'appalto poi dipendiamo anche dalle ditte stiamo correndo per riuscirlo a fare entro l'inizio dell'estate adesso non so se ci riusciamo però l'obiettivo è quello abbiamo fatto tutti i passaggi che dovevamo e quindi stiamo procedendo in quella direzione invece nell'impianto di smaltimento dell'acqua piovana lì al nido anche quello i lavori stanno procedendo l'obiettivo che abbiamo dato alla ditta è quello di terminare i lavori entro l'inizio dell'estate insomma di Pasqua sapendo che una volta finiti i lavori risolviamo un problema annoso di allargamenti anche qui ho sentito anche nelle ultime piogge delle polemiche lavori fatti male non è che lavori fatti male non erano finiti finché non sono finiti non va in funzione quindi nel momento che sarà ultimato il lavoro però sta procedendo non ci sono intoppi quindi penso che queste scadenze possono essere rispettate rimaniamo in zona mare perché ci sono state diverse polemiche anche da parte di qualche telespettatore che ci sta scrivendo che vuole avere maggiore informazioni per quanto riguarda i parcheggi a pagamento c'è una rivoluzione in corso ci sono delle novità dal primo giugno al 15 di settembre sarà attivata un'area l'area stagionale quindi ci sono alcune zone che aumenteranno da 5 a 20 centesimi orari dire rivoluzione mi sembra eccessivo sì perché qua effettivamente si parta quasi zero però in tutte le città in tutte le realtà sul mare sulla prima fila io non trovo una realtà dove non ci sia il parcheggio a pagamento che consente anche una maggior circolarità perché alla fine quando ci sono queste cose consente anche più fluidità perché uno arriva si piazza lì si tiene il parcheggio per tutta la giornata e non è un bene per nessuno sia per chi ha le attività ma anche per chi cerca parcheggio ma non è possibile creare anche dei parcheggi multipiano no c'è nell'obiettivo anche quello di realizzare dei parcheggi uno esiste devo dire poco utilizzato comodissimo io lo uso e lo dico con cognizione di causa che il parcheggio Van Vitelli comodissimo perché si parcheggia e si è subito in centro però non tutti diciamo potrebbe essere molto più utilizzato e quindi invito anche a utilizzarlo in centro diceva sì l'obiettivo se vogliamo tenere portare sempre meno macchine dentro il centro storico bisogna creare anche delle aree parcheggio comode su questo stiamo già ragionando stiamo già dialogando anche con alcune realtà che operano in questo settore ovviamente fanno una città storica quindi anche gli spazi sono delicati non è non ci si può improvvisare però abbiamo delle realtà per esempio c'è la realtà di Cesena dove hanno fatto delle scelte di questo tipo devo dire funzionano molto bene e hanno portato un beneficio importante e quindi anche noi vorremmo andare in questa direzione ci sta scrivendo ci ha scritto una insegnante di una scuola dell'infanzia voleva sapere se appunto la scuola dell'infanzia di Cucurano verrà trasferita nella nuova costruzione dove sta sorgendo la nuova scuola primaria considerati anche ristretti spazi che ha attualmente per le esigenze dei bambini inoltre ci avvisa anche che il parco vicino all'attuale scuola dell'infanzia primaria necessita di una manutenzione che riguarda Muretto Rete e Ghiaia sì conosco il problema ovviamente l'obiettivo con questa realizzazione che è la realizzazione di una scuola elementare e anche scuola dell'infanzia e l'obiettivo è portchiudere tutte le altre che sono strutture vecchie che non sono più adeguate per ospitare ragazzi per le attività moderne didattiche che occorrono per i bambini delle scuole elementare e quelli più piccoli quindi l'obiettivo è portarli tutti nelle due nuove scuole che hanno anche una palestra avranno anche una mensa spazi moderni adeguati qualificati che tengono conto di quelle che sono le esigenze dei bambini quindi la risposta è sì ci stanno inviando anche delle foto su praticamente una discarica a cielo aperto in zona falcinito ecco su questo io ringrazio qui ci vuole tolleranza zero perché chi fa queste cose è un maleducato è una persona che non ha il rispetto non solo per l'ambiente ma anche nel corso del Tg abbiamo dato questa situazione fra l'altro sono anche stupidi scontitemi questo termine perché fra l'altro anche questi rifiuti che molte volte sono rifiuti importanti anche speciali basta chiamare ASET prenotare il servizio è gratuito è comodo per cui chi fa queste cose porta dei materassi dei lavatrici lo reputo veramente è stupido perché fatica e fa una cosa sbagliata il servizio c'è quindi invito anche chi vede persone che si comportano in questo modo a segnalarle e a denunciarle perché bisogna veramente usare il pugno di ferro perché queste cose sono intollerabili ci sono ancora le telecamere che stanno girando ci sono quello è un servizio importante ovviamente abbiamo oltre 400 aree isole ecologiche quindi però dove a rotazione arriveranno dappertutto devo riscontrare che dove siamo andati dove c'è stata la presenza delle telecamere le cose sono veramente migliorate abbiamo scatenato abbiamo scatenato un po' di polei che mi ha tanti messaggi per quanto riguarda la viabilità Viale Ruggeri e Vie Limitrofe ci segnalano delle buche sì Viale Ruggeri anche su questo 2020 è l'anno anche della sistemazione di Viale Ruggeri abbiamo un finanziamento di circa 900 mila euro destinato per il 2020 i progetti esecutivi sono terminati e serviranno per la sistemazione in modo importante di Viale Ruggeri Ruggeri e anche la pista delle barche nell'ex pista dei Gocar che sarà una struttura aperta solo per far passare i trasporti eccezionali e evitare di farli passare dentro il centro storico ci chiedono anche sempre su Viale Ruggeri se fosse possibile realizzare un senso unico con la pista ciclopedonale sì ecco anche quello sta nelle progettualità quello è abbinato nelle opere di urbanizzazione della lottizzazione prevista in quell'area e il risultato finale è proprio quello di togliere il traffico da Viale Ruggeri e esportarlo con la creazione di una nuova strada vicino alla ferrovia come da previsione ovviamente nessuno rispette 30 km orari in via Suncino quello di cui dicevamo prima ma anche in via Fanella dicono che le macchine sfrecciano ad alta velocità e quindi insomma servirebbero più controlli ecco forse anche questa cosa dei controlli magari per beccare qualche forbetto dovrebbe funzionare da deterrente si spera perché l'amministrazione non prevede una ristrutturazione della rocca malatesiana con la ricostruzione del mastio ci sono fondi a disposizione e si creerebbero dei posti di lavoro quella sui monumenti guardi non si può dire che non abbiamo fatto interventi sul nostro patrimonio rocca compresa perché adesso poi ci si dimentica ma la rocca era fruibile solo per 90 persone fino a tre anni fa dopo i nostri interventi si è trasformata ma noi ci stiamo fermando qui altri interventi li abbiamo previsti di ulteriore sistemazione per una maggior friabilità e un maggiore utilizzo della rocca il maschio è un bel progetto confido che nel mio cassetto una delle prime cose che ho guardato era un vecchio progetto dell'architetto Cuppini che aveva avuto l'incarico di riqualificare tutto il patrimonio storico della città tutte le mura l'arco d'augusto che ha avuto degli interventi nel periodo quando era sindaco Cesare Carnaroli che fece un'opera veramente importante per la città se guardiamo le vecchie foto l'arco d'augusto era nero bellissimo come è adesso e fra questo mi aveva portato questa idea di recupero della rocca è interessante non è vero che i fondi sono a portata di mano bisogna provare a partecipare devono esserci dei bandi ad hoc non sempre questo è previsto perché le programmazioni anche dei fondi strutturali cambiano da settegno a settegno adesso c'è un nuovo si sta programmando il nuovo settegno di fondi strutturali europei però nell'immediato questa cosa non è prevista anche perché stiamo dando priorità abbiamo fatto anche questa scelta dell'acquisto della filanda dell'ex filanda teatro del romano e anche lì creeranno delle risorse però concordo con il richiamo che ha fatto il telespettatore prima di andare avanti con i vostri messaggi sentiamo chi c'è in linea sindaco abbiamo la prima telefonata per lei buonasera 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 sindaco buonasera volevo chiederle visto che sono favorevole alla pedonalizzazione dei centri storici come mai il borgo Cavour non viene pedonalizzato ma nello stesso tempo volevo chiedere come mai non vengono almeno rimossi quei cattelli quei segnali di zona rimozione di vieto di fermata H24 quantomeno si provveda a eliminare i cattelli perché sono altamente diseducativi per chi è abituato a rispettare la segnaletica si ha perfettamente ragione c'è un'esigenza complessiva di rivedere tutta la segnaletica verticale nel centro storico ci sono alcune zone che sembrano un bosco di cartelli invece di di alberi per quello che riguarda la pedonalizzazione del centro storico noi andiamo in quella direzione ovviamente ogni cosa deve essere accompagnata con interventi di riqualificazione perché altrimenti se noi andassimo solo intervenissimo soltanto con chiusure non faremmo una cosa giusta e adesso stiamo già lavorando anche su un piano complessivo di riqualificazione di tutto il centro storico che presenteremo alla città le idee le abbiamo chiare l'assessore sta lavorando anche su un piano da presentare e poi ci confronteremo su questo abbiamo in mente interventi importanti che dal mio punto di vista porteranno Fano ad essere la città più interessante della nostra regione io sono convinto che abbiamo tutte le caratteristiche tutte le potenzialità per diventarlo per davvero occorre ripulire via da Fabriano lato ferrovia in mondizia erbace mancano anche dei cessini per rifiuti e c'è una poca illuminazione limite 30 orari mai rispettato e ancora a proposito di strade poco sicure sono più di due anni che aspettiamo che si è ripristinato il guardrail che è stato abbattuto da un'auto regolarmente assicurata nella rotatoria di falcinito maggior ragione perché sono state emesse delle transenne che restringono ancora di più la carreggiate quindi insomma il tratto è coloso quindi altre segnalazioni poi ci chiedono sindaco quali progetti ha per la torrette di Fano si su torrette con il waterfront perché da lì nascono le progettualità fra l'altro non è una finta perché quando si fanno i concorsi di idee diventano delle elaborazioni si trasformano in mostre e rimangono nei cassetti il nostro processo invece è quello che porta a fare degli interventi concreti lo abbiamo già dimostrato con il parco dell'aeroporto abbiamo fatto un concorso di idee chi ha vinto ha già avuto l'incarico per il primo stralcio per fare il progetto esecutivo e l'abbiamo realizzato adesso abbiamo affidato l'incarico per l'esecutivo a chi ha vinto il concorso di idee per il secondo e terzo stralcio la stessa cosa la vogliamo fare per il lungomare e quindi anche per torrette e ponte sasso per quello che riguarda torrette da un'altra notizia domani mattina c'è la conferenza di servizi per il trasferimento dei fanghi di torrette anche lì siamo arrivati alla conclusione di un iter che ci ha fatto impazzire veramente anche in prima persona l'ho seguito in diversi passaggi delicati quando si parla di questi procedimenti ogni volta esce qualcosa di nuovo però qui veramente siamo arrivati alla fase conclusiva quindi dopo la conferenza di servizi di domani la regione dà l'ok definitivo per poter appaltare si farà la gara da parto per il trasferimento dei fanghi nella vasca di colmata di Ancona sempre per il ponte sasso ci dicono che il sottopasto davanti al Conad i gradini sono rotti sono pericolosi e si rischia una caduta poi ancora nella rotatoria di Rosciano nel tratto che va da via strada di mezzo e porta via 4 novembre la strada è pericolosa in questo caso non so se si tratta di buche o quant'altro le chiedono poi anche che fine farà la zona dell'ex zuccherificio quello è il solito problema adesso noi rimettiamo mano anche al piano regolatore abbiamo quasi terminato tutta la parte della città pubblica perché abbiamo rispetto al passato abbiamo adottato questo metodo di lavoro prima ragioniamo sulla città pubblica poi su quella privata il tema vero sull'ex zona zuccherificio che a tutt'oggi al di là delle chiacchiere che tutti abbiamo fatto me compreso non vi è mai stata una vera proposta economicamente sostenibile perché quella non dobbiamo dimenticare che è un'area privata non è un'area pubblica perché altrimenti fosse stata un'area pubblica avremmo potuto realizzare alcune opere nostre vedi piscina vedi delle scuole però non possiamo permetterci di acquistare dei terreni quando ne abbiamo di nostra proprietà utilizzeremo le risorse invece per realizzare l'opera per acquistare terreni e non avere più le risorse per realizzarla quindi l'idea che io mi sono fatto è quella di una programmazione anche flessibile che possa tener conto anche di quelle che possono essere dinamiche anche di progettualità e proposte con il nuovo piano regolatore ovviamente si entra nel merito vero anche di quell'area però è problematica è inutile nascondersi dentro un dito e trovare giustificazioni è un'area grande che ha delle complessità Sindaco vede il ponte che è da asfaltare dove c'è il condominio di San Lazzaro piena di buche poi un'altra segnalazione Fanese aveva detto che a settembre 2019 avrebbero asfaltato quel pezzo di strada invece così non è stato quindi non so se magari per la possibilità di vantaggio adesso non so se è successo perché anche una serie di asfaltature che dovevamo ultimare entro l'autunno purtroppo sono slittate anche per i problemi che dicevo prima riprenderanno con il miglioramento del tempo quando saliranno le temperature perché in questo periodo ovviamente come tutti sanno non si possono fare asfaltature non esageriamo con il limite dei 30 km orari salvo eccezioni facciamo rispettare i classici 50 che già insomma sarebbe qualcosa dove c'è il 50 mi ha fatto rispettare il 50 dove sono zona 30 non sono lì a caso perché c'è un'intensità c'è una presenza di pedoni di ciclisti e quindi c'è una necessità e siamo piccoli tratti di solito quindi non ci sciupiamo nessuno se rallentiamo in alcuni tratti di strada e su questo ci fermiamo per qualche istante di pubblicità torniamo fra pochissimo Bentornati siamo in diretta a Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri fra poco riappariranno anche i numeri di telefono dedicati alle vostre segnalazioni continuano il sindaco a chiederci per l'asfaltatura ad esempio in via della giustizia che inizia dal cimitero e si congiunge con via della liscia quindi il tratto che passa proprio dinanzi al cimitero stesso via Fanella sotto il Ponte Nuovo riaprirà anche lì è stato chiuso ormai qualche mese fa sì erano conseguenti anche i lavori della bretella quindi adesso non sono aggiornatissimo adesso questo la verifico per la lottizzazione degli orti Garibaldi 2 ci sono novità quando sarà possibile avere il permesso di costruire lì c'era tutto un problema un processo urbanistico che è in corso stiamo procedendo lì fra l'altro c'era stato un rinvio in consiglio comunale di una delibera che riguardava proprio questo aspetto comunque il percorso è in etinere a che punto è lo studio ambientale sulla zona industriale di Bellocchi credo si riferisca a quell'incarico abbiamo dato l'università un lavoro io penso per no penso abbiamo avuto conferma in questo senso che per marzo dovremmo avere le risultanze chiedono anche quando inizieranno i lavori per l'estensione della fibra ottica in particolare in quelle zone dove ancora purtroppo ci sono dei problemi sì anche queste alcune sono previste altre zone non lo sono ancora e nel programma che io mi sono dato c'è proprio questo aspetto che riguarda la digitalizzazione la modernizzazione anche sotto questo aspetto e il nostro impegno va nel reperire risorse anche per proseguire perché ormai è diventato uno strumento importante anche per lavorare desidero segnalare che nel parcheggio dietro la stazione restano in sosta numerosi camper inutilizzati da mesi togliendo posto alle auto anche pendolari studenti penso sia opportuno farli spostare in delle zone un po' più appropriate esatto sindaco chiedono anche dei chiarimenti sullo sito del digestore beh dall'ultima volta non ci sono novità non ci sono elementi perché al di là di tutti i discorsi che noi facciamo i ragionamenti vanno fatti su elementi tecnici veri e vanno fatti ancora degli studi di fattibilità vera su alcune aree e finché non sono fatti questi non è che abbiamo ulteriori elementi per fare riflessioni ulteriori vorrei chiedere al sindaco come mai alcuni padiglioni del cimitero urbano di Fano sono oggetto di incuria da parte del comune in quanto i muri cadono a pezzi i fili elettrici fuori dai loculi lampade non funzionanti quando piove entra dell'acqua diversi problemi sì questo è di manutenzione ordinaria adesso questo è la segnalo noi abbiamo fatto anche su questo un programma importante in questi anni nei cimiteri ricordo che quando mi sono insediato avevamo proprio delle difficoltà oggettive anche per i loculi che non c'erano ho passato anche dei momenti difficili abbiamo fatto tutto un piano tanti interventi ovviamente il lavoro da fare era tanto e sul cimitero urbano storico ci sono anche perché quello che ha più anzianità se così possiamo dire ha bisogno di ulteriori interventi ma non è che non ne abbiamo fatti a piccoli interventi ne abbiamo fatti diversi ma dobbiamo proseguire ci chiedono se c'è un rallentamento nei lavori della scuola di Cucurano c'è qualche problema in corso? le tempistiche si sono allungate ma stanno proseguendo i lavori speriamo che non sorgano in toppi particolari ovviamente è una realizzazione complessa importante ma l'appalto prevede delle scadenze se queste non vengono rispettate ci sono delle penalità quindi gli uffici stanno seguendo andando in questa direzione abbiamo un'altra telefonata per lei sentiamo che c'è in linea buonasera si buonasera buonasera il sindaco è qua che l'ascolta ok buonasera guardi avevo una domanda da farle in merito a una questione abbastanza importante per la città di Fano io sono genitore di due ragazze e le dico che nell'arco di un anno poco più mi sono state rubate quattro biciclette in un anno soltanto esatto l'ultima l'altro ieri addirittura dentro casa nel giardino di casa ma non so io sono una persona ieri sono stato contattato da un altro ragazzo perché ha visto il mio post lui addirittura gli hanno rubato cinque di biciclette è una cosa un pochettino allarmante perché si parla di biciclette importanti che hanno un certo prezzo sono biciclette fanesi che conosciamo tutti hanno un certo prezzo quindi anche il danno economico diventa importante esatto non è poco perché uno lo ricompre e due lo ricompre ma quattro biciclette sono tante cosa si può fare a rimedito a risolvere questo tipo di problema si intensificando i controlli ovviamente la polizia municipale ha scoperto anche recentemente delle persone che avevano rubato delle biciclette e ringrazio anche per il lavoro fatto e beh uno degli strumenti più significativi e importanti è la presenza di telecamere perché con le telecamere noi riusciamo a risalire ad individuare i colpevoli ovviamente oggi ancora la città non è tutta sotto controllo con le telecamere ma ne abbiamo installate diverse anche adesso e annualmente abbiamo in programma nuove installazioni anche nei quartieri quindi penso la soluzione migliore sia quella che aiuta ad individuare i colpevoli e nello stesso tempo è uno strumento che diventa anche un deterrente per chi magari vuole macchiarsi di un reato del genere Sindaco cosa ci dice del divieto di sosta di via Poggi io le suggerisco che la sperimentazione prevista fino al 31 dicembre 2019 ha evidenziato che senza le auto parcheggiate la velocità delle vetture che transitano è di gran lunga superiore quindi insomma qualcosa da sì io mi sono sentito con alcuni residenti poi avevamo messo in contatto sia l'assessore che l'ufficio penso abbiano fatto anche un sopralluogo facevano questa sperimentazione il dicembre per carità è finito adesso siamo oggi è il 13 se non sbaglio adesso mi è cura domani ricordare verificare quale decisione hanno assunto dopo la sperimentazione allora sempre per le buche allo Sport Park nel parcheggio dello Sport Park in via Rispighi ci dicono poi chiedono del marciapiede su via Dante Lighieri e ancora zona Monteschiantello è una vita che non si interviene forse noi abitanti non paghiamo le tasse ci chiedono insomma un po' di considerazione anche per gli abitanti della zona di Monteschiantello sono previsti dei interventi sì allora intanto qui mi ha detto parecchie cose sì la prima zona Sport Park qui ci sono anche delle strade di accesso che collegano retroferrovia specialmente d'estate molto utilizzata e lì bisogna fare degli interventi perché la situazione è veramente non dico disastrosa ma è uno stato che ha una urgenza e un'emergenza per il ripristino dell'asfalto e poi siamo in una zona anche di mitra fa al mare quindi molto frequentata diventa anche un biglietto da visita per la città su questo voglio anche così informare che i nostri uffici stanno già lavorando l'obiettivo era quello di finire il lavoro di progettazione dentro il 31 12 ma non ci sono riusciti ma di sistemare anche la parte di fronte alla ferrovia la stazione dove c'è quel marciapiede rosso che usano tutti i pendolari quelli che arrivano e vanno in stazione che con le valigie è una situazione disastrosa anche su quello interverremo migliorando anche l'accesso sia pedonale che ciclabile anche dalla ferrovia verso via Cavallotti che si ricollega con l'altra parte del marciapiede poi non mi ricordo poi il marciapiede su via Dante Lighieri su via Dante Lighieri anche lì dovremmo fare delle sperimentazioni perché c'è un'esigenza quella di far convivere il parcheggio delle macchine ma anche con chi cammina chi ha dei passeggini ed estate è veramente impercorribile quindi vorremmo fare delle sperimentazioni a breve per alcuni tratti per poter intervenire perché anche quella è una bella zona che va messa in sicurezza e va riqualificata e riordinata se così possiamo dire poi via Respighi buche nel sottopasso di Torrette via Persiutti e ancora vorrei chiedere di rivedere la viabilità di alcune traverse di Sant'Orso precisamente via Marco Polo o via Baccelli che sono a doppio senso ma essendoci le auto parcheggiate su entrambi i lati il doppio senso di marcia è impossibile quindi ci chiedono insomma di fare qualcosa anche di questo senso sì lì poi tutto sommato sono tante gli attraversamenti a pettine quindi consentono anche i sensi unici alternati un aggiornamento per i residenti di via del fiume nella zona dello stadio verso l'area artigianale direzione sud sono stati fatti dei sopralluoghi per i dissuasori le chiedono sindaco visto la velocità dei mezzi che percorrono quel tratto di strada c'è il rischio insomma anche per per i pedoni per che spasso con i cani sì anche quello adesso mi riaggiornerò con l'ufficio poi le chiedono anche se ritiene fattibile un divieto di sosta lungo via Galilei a Sant'Orso dicevo sindaco questa sera abbiamo scatenato un argomento importante su questo però effettivamente ci sono diverse zone che potrebbero essere di spreccia c'è anche queste risorse aggiuntive destinate per quella zona che porteranno a un ragionamento più complessivo che guardano anche questi aspetti e ancora il furto di biciclette quindi vedo che insomma sta colpendo questa cosa purtroppo no c'è stata un'ondata di furti di biciclette questo da una parte mi fa piacere significa che è molto utilizzata e che si va verso quella direzione c'è una crescita lei vede il bicchiere mezzo vino giustamente questo è un aspetto positivo e mi fa piacere non mi fa piacere il furto di biciclette quindi come ho detto adesso dobbiamo anche capire come meglio intervenire come posizionare anche le ulteriori telecamere che consentono un maggior controllo delle varie aree della città segnalano le piante nei pressi dell'area verde di Tombaccia invadono la carreggiate offuscano anche la luce pubblica sempre per quanto riguarda il verde volevo segnalare la rotatoria grande di Sant'Orso direzione Monte dal Palazzo di Vetro c'è il caneto del canale che non dà una buona visibilità per le auto ancora comunque prosegue questa collaborazione con Aset che per l'altro ha portato dei frutti anche per gli alberi per le potature c'è un programma che prevede un intervento in quattro anni l'intervento su tutte le piante pubbliche quindi siamo al secondo anno siamo già a buon punto allora Sindaco sto cercando un messaggio tra i centinaia dei messaggi che ci sono arrivati ma una domanda interessante che l'avrei fatto a fine puntata visto che c'è l'occasione gliela chiedo subito la cortezia di sapere scrive un nostro telespettatore come mai è passato a Italia Viva e non l'ha detto in fase di elezioni io ancora non ho detto niente ho letto hanno scritto altri un giornale mi sono divertito a leggere quando però non ha smentito non ho neanche smentito non ho nascosto che ho guardato con attenzione la nascita di questo soggetto politico è uno scenario dell'area politica di appartenenza perché nel centro-sinistra io sono come tutti sanni un sindaco socialista forse l'ultimo dei moicani come qualcuno direbbe quindi non ho ne detto si ne detto no perché quando faccio delle cose come ho sempre fatto come ho detto ci metto sempre la faccia quando decido di fare delle cose sono anche conseguente quindi non ho nascosto un'attenzione che ho un interesse che ho manifestato ma al momento niente di più viste purtroppo le ultime notizie di incidenti anche mortali sulla Flaminia Cucurano chiedono di aumentare i controlli su questo io sono onestamente per mettere anche le poi ripeto non sappiamo ancora quale sia stata la causa dell'ultimo incidente nel caso specifico che addolora solo a pensare questa tragedia però ci sono dei tratti dove veramente di notte quando non c'è traffico le velocità sono troppo sostenute ma non è solo lì nei centri abitati ma anche proseguendo verso Lucrezia Carrara Rosciano ma lo stesso discorso si può fare per la statale io non nascondo che metterei l'autovelox però non possiamo farlo in maniera unilaterale questo c'è un processo un percorso bisogna essere autorizzati dalla prefettura ne ho già parlato anche con il comandante è da tempo che ne abbiamo parlato e io andrei in quella direzione ovviamente autorizzazioni permettendo chiedono ancora le strade di Bellocchi quindi sempre asfalti invece sindaco le volevo chiedere visto che si è conclusa anche questa annosa vicenda del teatro romano dopo tantissimi anni ora quali sono le procedure sì quello è un grande risultato che si unisce a tanti grandi risultati prima si parlava di asfaltature che si richiede da 30 anni in questa città c'erano tanti progetti tante volontà che erano bloccate su cui si è sempre discusso e ho dimostrato in questi 5 anni che effettivamente su molte direi quasi tutte abbiamo messo una bandierina e chiuso il ciclo e in questo con fine anno con l'ultimo consiglio comunale abbiamo proceduto con l'acquisto dell'ex Filanda perché il teatro e i resti archeologici di fatto sono già pubblici l'obiettivo è quello di renderlo fruibile per la città per i visitatori e proprio oggi ieri c'era un'uscita anche dell'assessore alla cultura che faceva questo riferimento l'obiettivo è quello di proseguire anche su un'ulteriore indagine di scavi ma questi sono complessi e vanno fatti anche con gli organi competenti l'obiettivo adesso che abbiamo acquistato la Filanda è quella di elaborare il progetto per questo contenitore che deve diventare una forte attrattività un forte punto di valore per Fano che dal mio punto di vista dovrebbe ospitare anche l'atleta di Fano il Lisippo sulla quale si sta parlando molto e quello che si unisce poi ai lavori che facciamo a Sant'Arcangelo alla riqualificazione che vorrei fare a Piazza Miani che si unisce al lavoro fatto al Pincio veramente quando dicevo che Fano può diventare una città veramente interessante e attraente senza dimenticare che poi lì c'è la Memoteca che è diventata la seconda piazza della città molto frequentata da tutte le fasce d'età e quello è un altro patrimonio straordinario per la città di Fano le contestano un po' quello che ha detto Fano vocazione turistica c'è un nostro telespettatore che insomma ci ha fatto un elenco delle cose che non vanno sul lungomare una precisazione il parcheggio dell'ex albergo Vittoria non è del comune ma è privato in questo caso quello non è anche un parcheggio lì dovrebbe nascere un hotel esatto a parte le strade eccetera quello di cui ancora non abbiamo parlato è il degrado che riguarda gli hotel come ad esempio magari città limitrofe hanno fatto delle ordinanze allora anche su questo però sfattiamo dei miti le ordinanze le ho fatte anch'io le ordinanze le fanno tutti ma poi un conto è scrivere raccontarle poi bisogna andare a vedere cosa è successo dopo le ordinanze perché le ordinanze hanno un'efficacia e un effetto quando c'è un elemento di vera pericolosità altrimenti poi con i ricorsi vengono frenate ci sono degli strumenti qui è necessario parliamo di aree strutture private c'è la necessità di riqualificazioni importanti non in tutte perché va detto perché non bisogna neanche denigrare una categoria che sta facendo il suo lavoro però ci sono interventi necessari su questo ci deve essere anche un aiuto di incentivi che vadano in quella direzione c'è un elemento nuovo che ci sono degli incentivi recenti anche per la risistemazione degli palazzi storici per esempio uno di quelli che grida vendetta sulla quale c'è un'ordinanza in corso è quella struttura al pincio oggi riqualificato che onestamente non può continuare ad essere in quelle condizioni io posso confermare gli altri ci sono che lo strumento dell'ordinanza si usa ma per quella per lo strumento e per l'efficacia che ha e per le tipologie idonee per le altre è solo marketing e a me piace più la sostanza se devo pigliare in giro la gente e dire ho fatto questo per farli contenti poi non cambia nulla non mi appartiene magari non mi premi a questo comportamento ma lo reputo un comportamento serio Prima di sentire il sindaco che abbiamo in linea perché c'è una telefonata per lei ci chiedono di sistemare intanto le telecamere quelle del cimitero di Rosciano perché sono state rovinate e sono rovinate da tempo l'altro suggerimento arriva di fronte al circolo tennis perché c'è un piazzale in cui avvengono spesso dei furti quindi chiedono più illuminazione ma anche telecamere di videosorveglianza che anche in questo caso potrebbero fungere da deterrente buonasera sentiamo chi c'è al telefono buonasera 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 signor sindaco niente volevo fare due chiacchiere con lei sono ormai cinque anni che vengo in comune per la nostra via lei ci ricorderà avviare il primo maggio tra lei e l'ex assessore non so quanti viaggi fanno per il marciapiede signora i marciapiedi e le macchine lei lo sa cosa fanno le macchine noi usciamo da dentro a casa siamo in mezzo alla strada lei ha perfettamente ragione lì bisogna fare il marciapiede e punta e basta non ci sono noi abbiamo ragione ma non lo fate noi sono anni che si votiamo per questi marciapiedi lei lo sa che le tre corsie dal forno dalla farmacia fanno tre corsie noi abbiamo le macchine i camion purtroppo i camion sono grossi le corriere sono grossi sono sopra i marciapieni noi usciamo da casa abbiamo paura voi avete messo i tanti quartieri di Fano in sicurezza ma il nostro noi di che quartiere facciamo parte del porto del centro della periferia della luna nessuno parla di viale Primo Maggio no parliamo guardi il tema la signora ha ragione non voglio darle ragione per cavarmi ogni volta che lei venga qua si parli anche qualche segnalazione e ci arrivi allora qui il tema dei marciapiedi è presente in tutte le strade principali quindi c'è viale Primo Maggio c'è viale Adriatico nord e sud c'è la zona di Metauriglia di Ponte Sasso di Torrette lo dicevamo prima Carrara Cucurano Rosciano sono tanti chilometri noi abbiamo già fatto un ordine del giorno il consiglio comunale che va in quella direzione però non è che parliamo di piccoli interventi fare marciapiedi richiede risorse importanti quindi anche questo un pezzo alla volta sono interventi che vanno fatti come abbiamo fatto in altri comparti in altri settori con l'illuminazione ad esempio abbiamo iniziato e gradualmente stiamo andando avanti come abbiamo fatto con le asfaltature e anche sui marciapiedi c'è un'esigenza intanto anche di decoro e di miglioramento delle zone ma è anche una questione di sicurezza ci chiedono se ci sono dei progetti per il nuovo palazzetto e lo stadio a Chiaruccia sul palazzetto abbiamo iniziato il tavolo ha già elaborato le linee generali che sono sia l'ubicazione dove dovrà essere realizzato sia le caratteristiche che deve avere sia dei posti e la pulifunzionalità ovviamente un palazzetto non si fa in due giorni richiede una tempistica lunga c'è tutta la progettazione risorse importanti ma il processo è partito per quello che riguarda lo stadio non abbiamo risorse per un intervento di un nuovo stadio con risorse comunali c'è una manifestazione di interesse espressa sia pubblicamente che privatamente anche da parte del presidente del Fano Calcio che io ringrazio perché sta mettendo tante risorse per lo sport fanese però non c'è nulla di formale se non delle volontà espresse e delle idee manifestate quindi io posso parlare quando effettivamente ci sono delle progettualità e anche l'indicuzione delle risorse con cui intervenire come mai il balcone della passeggiata dell'Esippo che è stato rovinato dalla grossa mareggiata non è ancora stata sistemata intanto quella è un'area in concessione non abbiamo direttamente noi poi sono interventi come con le scogliere non sono semplici richiedono tempo richiedono finanziamenti ci mandate dei messaggi troppo lunghi voi stando in diretta faccio davvero tanta difficoltà a leggere perché alcuni hanno dei testi davvero davvero lunghi a Ponte Sasso è indispensabile sulla statale il passeggio pedonale e ciclabile sulla strada adriatica dove passano gli abitanti per raggiungere gli unici tre negozi presenti sul territorio se parliamo di sicurezza basta fare uno sopra al luogo si 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 rifà il discorso della signora di Viale Primo Maggio è un problema di tutta la statale e della Flaminia ci chiedono se fosse possibile sostituire quattro panchine molto rovinate in via Montesi davanti all'oratorio e poi l'asfaltatura in via Chiaruccia se è prevista effettivamente è un po' rovinata via Chiaruccia anche perché è molto trafficata il lampo alcuni tratti li dovremo fare non tutta perché utilizzeremo tutte le risorse destinate per una strada non penso che sia giusto quindi adesso dobbiamo fare il piano delle nuove asfaltature ci chiedono se fosse possibile riqualificare il campo di Sant'Urso calcio sinceramente non so di cosa parlano ovviamente non parlano della struttura centrale ma di quella a monte che è in terra che crea anche dei disagi per le abitazioni vicine specialmente nel periodo invernale è di difficile praticabilità c'è un ragionamento aperto con la società sportiva e stiamo andando avanti in quella direzione un nostro telespettatore ci sta dicendo dovete parlare degli autobus a Sant'Urso ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato nel corso del telegiornale lo abbiamo accennato prima perché fanno difficoltà dicevamo della difficoltà perché poi anche le auto dovranno aspettare dietro gli autobus come diceva dietro il sindaco si tratta di pazientare quindi è un discorso che abbiamo affrontato cercavamo di andare avanti per non ripetere sostanzialmente sempre le stesse cose la nuova strada per Tombaccia la tempistica a ottobre è passato sì stanno lavorando io spero insomma per marzo che possono aver ultimato tutti i lavori perché non è solo la strada di Tombaccia è anche la strada la parte davanti l'aeroporto quello è un tratto unico e quindi quando saranno terminati tutti i lavori si aprirà Sindaco visto che Fano è candidata a capitale italiana della cultura su che cosa punterete 2021 quindi c'è ancora un po' di tempo ma neanche più di tanto perché bisogna lavorare in modo serrato stiamo lavorando H24 perché in questo giro la candidatura è arrivata all'ultimo momento e i dossier vanno presentati entro il 2 marzo ieri abbiamo visto l'inaugurazione e l'apertura dell'anno di Parma è stata una bellissima festa con il Presidente della Repubblica e quella è stata una grande occasione di promozione della città di Parma bella città bravo il sindaco brava ben amministrata noi ci siamo candidati per il 2021 siamo consapevoli che è una battaglia difficilissima perché rispetto alle altre volte dove partecipavano si candidavano dalle 14 15 16 20 al massimo per esempio quando ha vinto Parma erano 14 le candidate questo giro sono 44 e per le Marche c'era sempre una sola candidatura adesso ce ne sono tre una si è già ritirata per dare spazio alle altre e lo ringrazio che è il sindaco di Ascoli noi avevamo fatto la stessa cosa per Macerata avendo il riconoscimento e il ringraziamento dell'allora sindaco di Macerata che ci dà il pieno appoggio purtroppo quest'anno c'è anche Ancona che vuole mantenere la sua candidatura come è legittimo fare quindi saremo due che competeranno per la regione Marche e stiamo lavorando perché è una grande occasione di promozione per la città a prescindere dal risultato è un lavoro che verrà fatto che ci porterà ulteriori risorse perché anche la regione Marche ci ha garantito anche per questo dossier delle risorse importanti che utilizzeremo e che comunque rimarranno a disposizione della città perché il lavoro di promozione che verrà fatto è comunque a prescindere dal risultato un lavoro che va verso la promozione e la valorizzazione delle nostre città ci dicono che nella bretella sud non stanno lavorando insomma chiedono anche la tempistica i lavori per la nuova rotatoria tra via Mattei via Papiria sono fermi da novembre però insomma anche questi discorsi li abbiamo problemi che abbiamo affrontato prima guardiamo alcuni tratti magari stanno lavorando da una parte più nascosta perché c'è tutto all'allato anche verso il fiume Metauro quindi però stanno procedendo è una ditta seria che ha come ha dimostrato fino ad oggi con grandi competenze anche grandi strumenti e quindi il lavoro procede avevano avuto qualche problemino però come sempre li risolvono non sono preoccupato dico la verità ci ha scritto anche Sergio Carboni noto artista affanese raccontandoci che anche lui sono le sue quattro biciclette esatto quattro biciclette quindi è un problema che sta si è avuto modo di parlarci posso dire visto che ci sta ascoltando che sto seguendo la questione che mi ha sottoposto che non rendo pubblico perché me l'ha detto in privato proprio riguardando questo aspetto buonasera volevo chiedere perché l'illuminazione pubblica a Rosciano finisce davanti loro ceramiche riprende poi 400 metri più avanti l'incrocio di svolta per Magliano è pericoloso sia di giorno che di notte è in previsione l'illuminazione in quel tratto? in quel tratto no nell'immediato adesso c'era in previsione la sostituzione di tanti punti luce presenti sulle statali perché quelle vecchie sono più gialle che bianche poi alcuni tratti sono provinciali e ovviamente non possiamo arrivare dappertutto estensioni in futuro ce ne saranno ma adesso nell'immediato quel tratto non è previsto Sindaco siamo in chiusura abbiamo pochissimi minuti ci chiedono comunque un po' più di considerazione per Ponte Sasso perché soprattutto in estate ci scrivono è un mortore quindi da considerare sia dal punto di vista turistico ma anche proprio per i residenti che insomma vorrebbero un po' più di attenzione dunque io direi di chiudere qua volevo chiederle un commento su tutti gli eventi del Natale Più credo sia stato un bilancio positivo sì io sono molto contento perché c'è stata tanta partecipazione significa che le scelte fatte sono state quelle giuste poi si può fare sempre meglio questo è fuori discussione tanta gente tanta partecipazione tanti eventi un ricco programma suggestioni anche un'atmosfera piacevole e questo mi dà piacere perché negli ultimi anni c'è stata proprio un'inversione di tendenza cosa che in passato non c'era e lo dico in condizione di causa perché come tutti i fanesi io ho sempre vissuto a fan e quindi ho la memoria di come era organizzato erano organizzate queste festività abbiamo già stiamo già ragionando per alcune novità per l'anno prossimo una in particolare molto originale ma non anticipo nulla nulla perché veramente penso che possa non è un'idea del sindaco questa è un'idea che mi è arrivata non posso dire chi poi quando sarà il momento si dirà perché se riusciamo a realizzarla che però porterà tanta gente tanti curiosi possiamo dire in che zona? comunque nel centro storico zona del Picio centro storico centro storico non ci dice perché vogliamo proseguire però ecco i numeri sono stati importanti tante presenze e penso questa sia la risposta più importante gratificante quando si organizzano queste cose e lasciatemi dire un grazie perché le cose non capitano per caso a tutti coloro che hanno reso possibile questo a cominciare dall'assessore competente alle associazioni al Proloco alle tante associazioni che si sono adoperate quindi veramente grazie a tutti poi nei prossimi giorni faremo anche un rendiconto con un video che richiama come tutti gli anni facciamo che richiama quel periodo che è un'occasione anche per farlo girare anche con i social che hanno anche un grande successo devo dire anche l'interesse dei media nazionali si è fermata su Fano diverse trasmissioni hanno fatto il loro passaggio a cominciare anche dai presepi il sistema caratterizzato il presepi di San Marco è un'eccellenza nazionale fa tantissimi visitatori il presepi di sabbia ha avuto anche questo un riscontro molto importante con numeri di visite molto molto alti la pista di patinaggio era sempre piena quest'anno tutte le volte che sono passata lì devo dire funziona più di altre piste di ghiaccio in altre città ma anche su questo vorremmo migliorarci insomma risorse permettendo anche per il prossimo anno abbiamo idee belle e importanti intanto immagino che state lavorando anche per gli eventi stivi esatto su quelli siamo già partiti il programma è già stato fatto con largo anticipo infatti non abbiamo sentito polemiche e anche questa insomma è una procedura che è cambiata è migliorata ed è utile anche per promuovere le iniziative e sto riscontrando solo delle casualità anche quando vado in giro per il compito istituzionale che ho di sindaco anche in riunioni nazionali sento sempre più il riferimento ai nostri eventi estivi non solo il carnevale che ormai è noto i passaggi fanno jazz insomma i passaggi fanno jazz ma anche fanno un fortuna stanno riscontrando molto interessi anche dall'estero anche dalla città che hanno rapporti straniere che hanno rapporti con noi Sindaco grazie per essere stato in nostra compagnia per aver aperto le prime puntate la primissima puntata di Primo Cittadino ci ritroviamo fra un mese grazie in circa grazie a tutti i telespettatori anche per le tante domande che arrivano posso dire e lo dico io non giornalista per qualcuno quando mi incontra per strada dice ma non hai risposto alla mia domanda non hai voluto rispondere non è vero posso testimoni non sono io ma vedo nel monitor arrivano tantissime poi è anche difficile poi alcune si ripetono è difficile rispondere a tutti dovrebbe stare qui due ore poi sarebbe una trasmissione troppo pesante per chi ci segue da casa comunque grazie ma il fatto che ci siano anche tante domande è anche un'attenzione è un suggerimento è anche un atto di fiducia perché significa che quando uno chiede perché ha una speranza altrimenti non sarebbero qui ad ascoltarci grazie ancora sindaco di Fano Massimo Sere grazie a tutti voi per averci seguito l'appuntamento ritorna lunedì prossimo quindi buona serata a tutti voi buona serata grazie a tutti